Era un bilancio che poteva finire tranquillamente in passivo perché siamo un aeroporto piccolo, che ha grandi spese e che ancora non riesce ad andare in pareggio con i mezzi propri. Chiude con un attivo di 35 mila euro al netto delle imposte il bilancio di esercizio 2018 della Saga S.P.A., la società che dal 1981 gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Il bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci, dove la regione Abruzzo detiene il 99,97% del pacchetto azionario con una quota simbolica detenuta dalla società Future Cleaning S.R.L. Il valore della produzione di Saga monta ad 8 milioni e 600 mila euro, tuttavia si evidenzia una contrazione dei ricavi rispetto al 2017 di circa 600 mila euro. Si mantiene stabile invece il numero dei viaggiatori registrati nello scalo pescarese, che ammonta 670 mila passeggeri nel 2018. L'Aggiunta regionale ha deliberato nelle scorse settimane la variazione di bilancio necessaria a garantire la funzionalità della società con l'immissione di liquidità e l'erogazione di ulteriori 400 mila euro di fondi mirati a rinnovare il sistema di gestione dell'antincendio dell'aeroporto. Il contributo regionale, che quest'anno era soltanto di 560 mila euro, è stato fortemente corroborato da investimenti importanti. L'anno prossimo io credo che, ribadendo il SIEG, cioè un milione per le spese che non sono nostre, quindi una forma di rimborso spese, e con un milione di denaro corrente nel bilancio della regione, questo aeroporto d'Abruzzo potrà continuare questa corsa verso il milione di passeggeri. Adesso si sta lavorando ad un passaggio fondamentale per l'aeroporto d'Abruzzo, cioè l'autorizzazione da parte dell'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, del prolungamento della pista. D'accordo con l'assessorato al turismo della regione, che ha già annunciato gli obiettivi di Parigi e Berlino per tre anni, perché il bando è triennale, e per Catania e Torino, che sono concordati con noi tutto l'anno, penso che avremo almeno altre due o tre destinazioni internazionali su cui le compagnie si dovranno proporre. Personalmente ritengo che andrebbe sostenuta qui in Nord Europa, una destinazione in Nord Europa, paesi scandinavi, e verso l'est.